Buongiorno a tutti carissimi cinefile, carissime cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi posso finalmente parlarvi di Joker, film che sono andato a vedere ieri sera al cinema, il Joker di Todd Phillips, film del 2019, incentrato appunto sulla figura del villain più famoso probabilmente della DC, dell'universo fumettistico della DC Comics, ma, ma, c'è un grosso ma, questo non è un cinefumetto come gli altri a mio avviso, nel senso che l'operazione che è stata fatta da Phillips, il quale è regista, è anche sceneggiatore insieme a Scott Silver di questo film, quindi ha curato una parte importante della pellicola, cioè appunto la scrittura. L'operazione fatta da lui, dicevo, è qualcosa di atipico, secondo me. Allora, premetto che il video sarà pieno di spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione, tornate in un secondo momento. Ma, dicevo, il film è sì incentrato sulla figura di Joker, ma l'analisi che viene fatta del personaggio e del contesto sociale in cui lui si trova ad agire è un'analisi, una descrizione, una rappresentazione che ha a che fare più con un'analisi, potremmo dire, scorzesiana. Non ha molto a che fare con il fumetto, o meglio, non con un certo tipo di produzione fumettistica. Non ha molto a che fare con l'ingenuità, con il cartunesco, ha a che fare invece con qualcosa di malato. Il film sembra quasi uno studio dei processi di degenerazione della psiche umana. Il film è molto attento sull'aspetto psicologico del personaggio e non lo presenta come qualcosa di macchiettistico. La scelta di caratterizzare, per esempio, la risata, che è un elemento senza dubbio distintivo del personaggio del Joker, non solo la violenza, la sua anarchia, in senso negativo, chiaramente, il suo essere veramente un cane sciolto, concetto che era stato, secondo me, spiegato in maniera in maniera convincente nel secondo nel secondo capitolo della trilogia dedicata a Batman da Nolan. Un tratto distintivo appunto del personaggio è la sua risata, ma si tratta di qualcosa di diverso da quello che magari possiamo aver visto nei fumetti, nella serie animata, bellissima, dedicata a Batman, o anche negli altri negli altri film, come per esempio nel bellissimo Batman di Tim Burton. La risata del Joker aveva a che fare con una manifestazione distorta, estremamente perversa, di un suo divertimento personale. qui invece abbiamo qualcosa di diverso, abbiamo qualcosa che ha a che fare con il suo inconscio, perché la risata non è voluta, lo diventa in seguito, ma inizialmente è la manifestazione di un disturbo, di un tic, insomma, di una nevrosi. Questo Joker è un Joker profondamente nevrotico, mentalmente disturbato, e con qualcosa che pare essere innato, cioè il suo essere strano, bizzarro, inquietante, sono tutte cose che sembrano appartenere in modo innato al personaggio di Arthur Happy, tra virgolette, Flank, che è il nome del Joker, in questo film, chiaramente, ma in realtà tutto ha origine in un trauma, in un trauma infantile, trauma che poi si ripresenterà e che costituirà il definitivo elemento di rottura quando scatta definitivamente la sua molla assassina. Quando Arthur, recandosi nel manicomio di Arkham, riscopre, o meglio, scopre la verità sulla propria madre che non è la sua vera madre, lui è stato adottato, scopre la verità su quella che è stata la sua la sua infanzia, i ricordi affiorano, la verità affiora, e quella parte della vita che la sua mente ha cercato di rimuovere, perché tendenzialmente la mente umana funziona così, i momenti brutti, il dolore, si cerca di eliminarlo. Questo è quello che è successo ad Arthur Flank, una parte della sua vita è stata rimossa, ma nel momento in cui, scavando all'interno della propria identità, all'interno della propria storia personale e familiare, ecco che la verità emerge, ecco che quella risata che lui ha sempre cercato di soffocare con grande fatica, con grande contorcimento, ecco che in quel momento il geyser esplode definitivamente e da parte di Flank c'è come dire una sorta di accettazione di un tipo di maschera che la società ti ha imposto con la forza, con la violenza, perché la maschera di criminale, di pazzo criminale, possiamo dire che gli è imposta, gli è imposta dal contesto, non c'è l'idea in questo film di qualcosa di innato, non è che tu nasci criminale, ci diventi e in quella Gotham che è sempre sull'orro di esplodere, alla fine esplode, c'è un interessantissimo parallelismo fra il contesto sociale e il contesto del singolo, la situazione dell'individuo, sono due come dire, sono due binari che vanno verso il precipizio e alla fine si incontrano, alla fine nel momento in cui la violenza esplode, nel momento in cui anche Gotham esplode, ecco che abbiamo l'incontro non casuale fra questi due personaggi, fra la città che ha questa brace che cova, che in maniera appunto occulta, piano piano, diventa sempre più calda fino poi a esplodere e il personaggio che anche lui nel corso del film per gradi discende quella scala che lo porta alla follia, una follia che è anche un atto di ribellione, un atto di ribellione nei confronti appunto del contesto malsano, di un contesto che fa dell'ipocrisia il suo modus vivendi, tutte queste persone ben vestite che parlano bene, che si presentano bene alla televisione, che è un elemento costante della vita di Arthur Flank, un elemento che rappresenta le sue aspirazioni e anche le sue delusioni, perché la televisione è un sogno ma diventa anche una enorme delusione nel momento in cui il sistema ti prende in giro, il sistema ti usa, il sistema ti denigra, si prende gioco di te e a quel punto basta, a quel punto sono io che ti racconterò una bella barzelletta con la pistola in mano e te la punto e poi sparo. Questa è diciamo la rappresentazione della televisione, la rappresentazione del contesto sociale, della spietatezza, del cinismo di questa società che crea le emergenze e poi si presenta come soluzione o quantomeno chi crea le emergenze e poi si presenta come il portatore delle soluzioni. Arthur Flank è il prodotto malato di una società malata che deve essere curato prima ma poi queste cure vengono a mancare lui diventa un problema diventa una pustola che esplode e a quel punto bisogna intervenire bisogna isolarlo per far sentire tutti quanti più sicuri per far sentire tutti quanti in una società che comunque riesce a rispondere alle necessità di sicurezza. Alla fine Arthur Flank sarà confinato all'interno di Arkham ma è un confino forzato è un confino strumentale ad un certo tipo di società che vuole continuare a mantenere le disuguaglianze che vuole continuare a mantenere le ingiustizie perché conviene a qualcuno conviene a questi signori ben vestiti che sono grassi che sono arroganti che sono prevaricatori e che traggono il loro potere dal loro stato sociale e se loro stanno in alto vuol dire che c'è qualcuno che sta in basso Arthur Flank sta in basso e deve stare in basso deve essere calpestato deve essere denigrato deve essere derisa deve essere picchiato nel momento in cui lui si arma e si ribella spara e uccide il problema è che poi attenzione il film è vero che ha tutti questi messaggi politici però ci dice anche un'altra cosa è fondamentale secondo me la scena del cinema nel momento in cui c'è l'incontro tra Flank e il signor Wayne il padre di Bruce il futuro Batman mi è piaciuta molto la rappresentazione di Wayne come un personaggio cinico falso un finto buono un finto filantropo ma in realtà è un personaggio negativo che è lo specchio di questa società malata e assolutamente ipocrita però dicevo la scena del cinema è importante secondo me fondamentale perché ci spiega quello che è un po' il pensiero probabilmente di di Phillips o comunque il pensiero di fondo del film che non vuole essere come dire giustificatorio nei confronti del protagonista e nei confronti poi dell'esplosione di violenza finale perché perché all'interno del cinema viene proiettato un film viene proiettato un film che è intitolato tempi moderni di Charlie Chaplin è la storia anche quello e quindi io vi invito a vedere quel meraviglioso gioiello che è tempi moderni di Chaplin anche quel film parla di di ribellione anche quel film parla di sfruttamento parla di alienazione parla di lotta di classe ma Chaplin il personaggio di di Charlot all'interno del film affronta queste difficoltà in una maniera diversa c'è più una questione chiaramente legata anche ai momenti comici che scaturiscono dall'equivoco e Chaplin ha sicuramente una visione più vicina all'arte all'espressione artistica come luogo di realizzazione come luogo o comunque momento in cui il talento più puro più genuino più buono di una persona di uno sfruttato riesce a trovare la sua realizzazione riesce a trovare la sua vera espressione non attraverso la distruzione ma attraverso un altro un altro canale un'altra via Chaplin è sicuramente un personaggio che parla più dei buoni sentimenti il film di Phillips è molto più diciamo così disincantato è molto più cattivo e però però propone comunque la visione di Chaplin è solo un frammento è solo un attimo le persone che sono in sala tutti questi bei questi questi ricconi ben vestiti ridono semplicemente sguaiatamente di Chaplin che in quel momento si trova all'interno del centro commerciale sta facendo il sorvegliante e si esibisce in una delle sue gag sicuramente più divertenti e più celebri ma non è questo il punto del film non è solo farti ridere è farti vedere come uno sfruttato può comunque trovare il modo di liberarsi può comunque trovare il modo di ribellarsi a quella società malata a quella società capitalistica e sfruttatrice i ricconi possono soltanto ridere possono soltanto cogliere l'aspetto superficiale di quello che stanno vedendo Chaplin è solo un pagliaccio che ti fa ridere che ti diverte invece Chaplin un grande artista che ti parla di che cosa è la società e di come si dovrebbe riuscire ad affrontarla non accettarla ma affrontarla ovviamente senza senza la l'esplosione di violenza che invece mette in atto ad un certo punto Flank ma Flank è comunque una persona disturbata quindi non stiamo parlando di un personaggio che teorizza la violenza in un modo lucido ma è un personaggio che a un certo punto esplode non non reagisce in una maniera alla fin fine ragionata non non c'è qualcosa di sano nella sua evoluzione lui è proprio l'apoteosi della del mal sano che caratterizza questa società che caratterizza questa società a questo contesto quindi non c'è nulla di degno di emulazione non c'è qualcosa da imitare non c'è qualcosa da ammirare lui per caso si trova ad interpretare un malessere sociale che cova e che alla fine esplode e solo per caso lui si ritrova ad essere il capofila di una ribellione di massa è un caso o meglio non casualmente lui si trova ad essere osannato come eroe come capo di questa rivolta ma dal suo punto di vista dal punto di vista individuale di Arthur Flank del Joker Arthur Flank è un caso che lui si ritrovi ad essere appunto il capo il capo di questa rivolta la politica non c'entra niente questo lo dice a parole lo dice anche attraverso le immagini attraverso i simboli lui usa questa maschera la maschera del clown per nascondersi dai poliziotti che lo stanno inseguendo per un omicidio per un triplice omicidio e alla fine quando i poliziotti vengono aggrediti dalla folla lui questa maschera se la leva e la getta nel bidone dell'immondizia quella maschera è il simbolo dell'ideale politico che anima la rivolta ma Arthur Flank non segue quel percorso non fa proprio quell'ideale è sempre comunque una ribellione che ha una dimensione singola che ha la dimensione individuale sono gli altri che danno questo significato e quindi è lo spettatore che deve avere la capacità di discernere tra ciò che può essere il giusto movimento di ribellione la giusta motivazione a ribellarsi e l'eccesso l'estremo il momento in cui l'estremismo conduce ad una degenerazione Arthur Flank è purtroppo una mente che alla fine degenera certo non è tutta colpa sua perché c'è un trauma pregresso la colpa è sempre comunque del contesto sociale ma alla fine l'atto di violenza la distruzione selvaggia non sono giustificate non sono assolutamente giustificate e oltretutto è molto difficile distinguere in questo film la realtà dalla finzione perché qui Todd Phillips ha fatto un'operazione secondo me eccellente riesce a confondere lo spettatore a non far distinguere in modo netto ciò che è reale da quello che non lo è e in questo modo riesce a farti capire qual è il punto di vista del personaggio senza però ripeto arrivare a giustificarlo almeno io non ho percepito una giustificazione c'è sì un'empatia nei confronti di Arthur Flank vittima nei confronti di Arthur Flank che cerca calore umano ma nel momento in cui diventa un criminale ecco che il personaggio di Arthur Flank smette di essere umanizzato ma comincia a diventare qualcos'altro comincia a diventare una maschera egli stesso comincia a spersonalizzarsi quindi c'è questa operazione duplice e un po' paradossale abbiamo la costruzione del personaggio per poi alla fine averne una decostruzione nel momento in cui Flank decide di ripudiare anche il proprio nome lui ripudia quello che ha sempre pensato di essere cioè il figlio di sua mamma in realtà è adottato ripudia il suo cognome ripudia quell'immagine che aveva di se stesso un'immagine estremamente triste decadente malinconica e accetta la nuova dimensione la maschera che gli hanno dato cioè Joker essere Joker essere qualcuno che si diverte a fare del male che trova nella violenza la sua valvola di sfogo e alla fine questa rivolta c'è stata non c'è stata probabilmente c'è stata ma lui non è stato come dire innalzato a eroe o comunque quella scena dove lui sta sulla macchina della polizia e si muove e assorbe diciamo si bea di questa folla che lo osanna in realtà probabilmente questa è una sua immaginazione perché lo troviamo rinchiuso all'interno del manicomio criminale di Arkham con quell'ultima sequenza folle delirante bellissima e che ti lascia veramente così insomma senza parole senza fiato un film che che è veramente interessante sotto molteplici aspetti c'è una cura dei dettagli secondo me strepitosa nella descrizione del contesto in cui vive in cui agisce il protagonista che regge sulle proprie spalle tutto il film Joaquin Phoenix veramente fornisce una prova attoriale magistrale semplicemente magistrale allora io purtroppo non ho potuto vedere il film in lingua originale l'ho sentito doppiato da Giannini che secondo me ha fatto un lavoro lodevole anche se la sua migliore prestazione continua ad essere sempre sul personaggio del gioco che è però quello interpretato da Heath Ledger Giannini non è più riuscito secondo me a raggiungere quel livello ritorna un po' con Phoenix però secondo me non raggiunge quella prestazione però ho potuto sentire le risate questi tic queste manifestazioni che quasi sfociano nelle convulsioni e lì si sente la voce di Joaquin Phoenix e veramente ti dà l'idea di qualcosa di estremamente malato di qualcosa di estremamente disturbato quindi un'interpretazione anche fisica una trasformazione proprio totale di questo attore che insomma merita merita tutto il riconoscimento possibile e ogni sfumatura veramente una prova una prova strepitosa e questo è un film che anche attraverso i come posso dire anche gli oggetti di scena le inquadrature spesso lo vediamo piccolo il personaggio di Flank lo troviamo piccolo messo da una parte oppure lo troviamo posizionato al di là di una barriera che può essere un vetro appannato può essere magari una griglia metallica a farci capire quanto questo personaggio si senta comunque imbrigliato in una vita opprimente sono barriere e griglie che anticipano un po' anche le sbarre che andranno a contenere la sua esistenza ad Arkham quindi anche questi dettagli che sono che sono sempre presenti che sono molto insistiti ci descrivono ci aiutano a descrivere il personaggio e a capire quella che è un po' simbolicamente la sua parabola è un film che veramente merita tantissimo anche da questi anche da questi dettagli e poi l'idea di voler rappresentare il senso di frustrazione di allenazione di veramente di questo ambiente di questa mente malsani una una nevrosi che mi ha ricordato molto quella presente in Taxi Driver cioè ci sono veramente delle situazioni che richiamano tantissimo il film di Scorsese anche nell'analisi estremamente approfondita del personaggio del suo disturbo mentale e nella descrizione di questa Gotham sporca veramente cupa lercia una città che sta veramente sprofondando nell'inferno in questa infernale giungla urbana che è lo specchio della malattia che caratterizza questa società e nello specifico Arthur Flank io penso che il film poi anche attraverso le immagini sia molto chiaro sia molto ben costruito quando c'è per esempio la rivelazione che tutta la storia amorosa con la vicina è anche quella frutto dell'immaginazione e di un uno struggente desiderio comunque di amore di calore umano da parte di Flank quando ci si accorge che tutto questo è solo un'illusione non le immagini sono chiare c'è un montaggio rivelatore perfetto questo significa parlare attraverso le immagini contrariamente a quello che succede magari in un altro cinefumetto che può essere non so Spider-Man Far From Home c'è quella sequenza veramente pessima secondo me dove Misterio a un certo punto rivela il complotto contro Spider-Man e dice tu hai agito così perché ti è successa questa cosa e tu hai fatto questo perché sei stato licenziato e noi abbiamo realizzato cioè questo spiegone è proprio quanto di più anticinematografico diciamo ci possa essere mentre invece nel film di Phillips momento rivelatorio momento in cui possiamo guardare di nuovo all'interno del personaggio possiamo togliere un altro velo e possiamo scoprire qualcosa in più senza spiegoni attraverso parole dialoghi eccetera ma attraverso le immagini questo significa fare fare cinema parlare attraverso le immagini e e niente insomma questo è un po' il mio il mio pensiero sul sul film un film che considero veramente uno dei più belli fatti quest'anno uno dei migliori cinefumetti di sempre non credo che siano tanti i film di questo tipo che che possono che possono mettersi allo stesso livello di di Joker di Todd Phillips ah e poi mi è piaciuta anche un'altra cosa sul finale quando c'è l'omicidio dei dei due dei coniugi Wayne ecco lì sul finale c'è un riferimento al Batman di Tim Burton quando c'è anche la morte della madre di Bruce le perle che a un certo punto vengono strappate che volano in aria mi hanno ricordato tantissimo la scena in cui appunto c'è l'omicidio dei due dei due genitori di 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 Bruce Wayne come viene mostrato nel film di di Burton quindi io vi consiglio tantissimo di di vedere questo questo film fatemi sapere che cosa ne pensate commentate condividete iscrivetevi al canale e niente ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti